Buongiorno a tutti, oggi facciamo un interattivo molto particolare con anche una piccola innovazione e anche con un piccolo spoiler su cosa succederà a breve su questo canale. L'interattivo mi è stato richiesto da un amico, Claudio, che ringrazio, il quale appunto mi ha chiesto come faccio a capire se questa persona è la persona adatta a me. Quindi ecco che il titolo, io ho fatto anche una lettura, tra l'altro è stato un momento bellissimo, e poi ho detto ok, magari qualcun altro ha questo problema. Questo non riguarda solo la situazione affettiva, nel caso di Claudio era un contratto di lavoro. Quindi come faccio a sapere che questa persona è la persona che magari può aiutarmi a crescere sia nelle relazioni, sia in amicizia, sia nel lavoro? Niente, questo è l'argomento di oggi. Ecco scusate, non mi veniva il termine. La piccola innovazione è il fatto che ho deciso di fare tre singoli video e poi metterli insieme in modo da evitare lo stacco di tempo fra... Quindi chi fa lo spoiler del video tirando avanti la barra temporale può risparmiarselo perché ora più che mai i stamp del tempo di lunghezza del video sono adatti perché parte da lì. Detto questo c'è da aggiungere un'ulteriore cosa, si avvicina al sawin, quindi la terribile, temutissima notte di halloween. Lo dice il papa, non lo dico io. Io farò un video dove darò alcune anteprime di un progetto che andrò a seguire e soprattutto farò un regalo a chi mi segue. Un piccolo regalo proprio inerente a questo progetto. Quindi il video verrà registrato e pubblicato nei prossimi giorni in modo che abbiate l'opportunità di guardarvelo magari prima del sawing che magari qualcuno festeggia in modo tradizionale secondo il suo cammino altri semplicemente si concedono una serata di festa quindi non è giusto inflazionare quella sera a chi magari ha altri appuntamenti quindi lo metterò per tempo. Detto questo iniziamo con le domande, le versioni sono quattro questa è la persona giusta per me partiamo con la prima le versioni sono, i tarocchi sono due, scusate questo non l'ho detto sono l'Anchid Femminine che è un tarocco che abbiamo già usato in altre occasioni è un tarocco molto bello, molto intuitivo quindi secondo me si adatta molto a quello che noi stiamo chiedendo e l'Anchid Femminine Wisdom del quale finalmente udite udite ho completato la traduzione ci sono degli appunti miei sopra quindi è meglio che non vi faccia che non vi faccia vedere cosa ho scritto perché poi sono correzioni che andrò a fare niente, va bene, dai faccio un po' di spazio inizio a prendere i mazzi e vi metto le versioni qua sono quattro versioni è la persona giusta per me qualche secondo perché possiate scegliere io intanto prendo i mazzi allora qui si sta parlando secondo me di una forte passione perché comunque si inizia col diavolo è probabilmente una persona che potrebbe avere un fortissimo magnetismo ma anche una persona che potrebbe anche non avervi detto tutto potrebbe anche nascondervi qualcosa è sicuramente una persona che vi attrae forse e questo magari non so quanto sia corretto però comunque intanto io lo dico forse anche per la maschera che è, per ciò che presenta esteriormente quindi comunque per ciò che che è il suo vivere il suo mostrarsi il suo palesarsi quindi in realtà poi sotto è una differente persona e questo forse voi lo avete intuito forse dovete intuirlo è sicuramente una persona molto forte nei vostri pensieri una persona veramente, veramente, veramente presente al limite proprio del sognarsela del pensarci spesso qui stiamo veramente a un qualcosa che mi viene una parola che ha un'accezione brutta però in realtà la lettura verte molto sulla positività nelle carte successive quindi prendetela col beneficio del dubbio qua si parla di ossessione ma ossessione in senso buono proprio perché non riesco a trovare al momento altri termini cioè qui si parla di pensiero fisso veramente quindi una persona che vi ha particolarmente colpito è probabile per alcuni che questa persona rappresenti anche un ripresentarsi dal passato di un qualcuno un ripensare a qualcuno del passato perché comunque il diavolo può essere riferibile anche a situazioni che ci hanno segnato in passato e dalle quali fatichiamo a doganarci a sganciarci quindi magari sono quelle relazioni qui si parla proprio di sentimento credo queste sono delle relazioni che dobbiamo poi portare a chiusura per il nostro bene o per il bene dell'altro oppure devono completamente mutare perché se già una volta non sono nate o sono state messe in stand by è perché c'era qualcosa che non funzionava da entrambe le parti e il diavolo ce ne parla però il diavolo nell'iconografia classica è una carta che lega due persone anche contro la loro volontà ad un fatto di come si dice le lega ecco comunque alla fine non mi viene il termine però alla fine le incatena diciamo quasi l'una all'altra quindi alla fine crea un legame talvolta purtroppo anche di dipendenza il che comunque è sbagliato perché non si deve mai creare una dipendenza l'uno dall'altra o dall'altro io parlo al maschile verso il femminile ma le donne possono girare questa cosa e quindi ci parla di un profondo sentire che però non ci ha convinti del tutto in passato oppure addirittura di un profondo sentire che ci fa capire che oltre alla maschera appunto come dicevo all'inizio della persona dietro c'è qualcos'altro questa è proprio una carta che fa riferimento alla maschera a ciò che mostriamo a ciò che siamo la vera natura di questa persona probabilmente ci sfugge ci sfugge magari crediamo di conoscerla pienamente nelle sue forme esteriori ma l'interiorità di questa persona è ciò che ci lega è lì che è nascosto ci sfugge ci sfugge e ci e siamo invitati a scoprirlo siamo eccezione quasi diapolica perché vorremmo magari in alcuni casi non in tutti rifuggire questa cosa vorremmo dire ok basta dai questa persona mi sta inflazionando l'esistenza mi sta anche cercando di involontariamente chiaramente il pensiero di questa persona mi sta bloccando anche ad aprirmi verso altre situazioni ma perché questa persona mi attrae esteriormente è così lei ha comportamenti ha anche magari caratteristiche fisiche che non sono il mio modello ideale che cosa mi attrae c'è un qualcosa sotto che mi lega mi vincola qua c'è un rapporto veramente forte ripeto al limite dell'ossessione però in questo caso posso pensare dato come va la lettura nel senso buono e qua c'è anche un discorso però di questa è un po' quella situazione di partenza la situazione del momento c'è il mago e il mago è una carta molto importante per quanto riguarda proprio il rinascere di situazioni è vero che è legato a un discorso proprio di rinascita o di nuovo inizio sono d'accordo però anche qui bisogna andare un attimino nell'accezione classica della carta la quale ci parla comunque di persona che si va a rinascere ma perché va a rinascere perché ha gli strumenti e quindi qua abbiamo proprio la carta vedete di risorgere dalle acque con una rinnovata energia simboleggiata dal serpente se non sbaglio in questa carta qua è proprio Sofia la Sofia agnostica quindi comunque la conoscenza il completamento anche nel caso di una relazione può essere il tuffarsi proprio animicamente l'uno nell'altro Sofia è anche un po' l'anima appunto decaduta eccetera secondo le scuole che non sto a specificare però comunque è proprio l'anima mundi e il problema è come li va a utilizzare perché il nostro mago che ha tutti gli strumenti li può utilizzare anche per fare prestigitazione scusatemi cioè ovvero per illudere e voi avete un po' paura di questo questo è quello che vi sta affermando probabilmente questa situazione può avvenire sia dal passato ma può avvenire anche da un discorso di una persona talmente diversa da voi che vi chiedete magari ripeto io ci vedo molto una situazione che va avanti da tanto o che comunque ha delle radici nel passato che non necessariamente deve essere un passato di anni e anni può essere anche un passato di mesi comunque è sempre un trascorso che ormai dovreste avere alle spalle ma dal quale non vi siete sdoganati il dubbio è proprio questo quanto questa persona mi sta illudendo o quanto mi sto illudendo io quanto in realtà appunto gli strumenti del mago servono per fare la prestigitazione oggi non mi vengono le parole o quanto serve in realtà per costruire delle solide basi con cui andare avanti quindi qua c'è proprio questo dubbio che vi martella vi collode ma in realtà la carta del mago è di buon auspicio e secondo me va in questo caso anche a attenuare un attimino il significato ossessivo e incatenante del diavolo quindi comunque va a dire anche una situazione di 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 rabbonimento di questo di questa di questa carta qua quindi diciamo che se dovessi metterla su su un termine un attimino un pochino un po' più cosmico direi che l'universo in questo momento vi sta dirottando a riavvicinarvi o a rintessere un dialogo con questa persona proprio perché c'è di fatto la possibilità che tutta questa situazione si possa se non cancellare addirittura comunque trasmutare in un'energia rinnovata appunto e risorgere dalle acque con una nuova energia come dicevo prima quindi in realtà l'universo vi sta spingendo a risondare di nuovo il terreno in questa situazione e qua sicuramente una persona o che appunto dicevo avete dei trascorsi o che se avete conosciuto di recente appartiene comunque a un metodo a una categoria di persone che non fanno parte del vostro del vostro universo che posso dire posso dire per esempio che ci può essere la persona che magari non ama particolarmente i luoghi affollati non ama particolarmente avere troppa gente intorno preferisce la storiella intima ecco qua c'è proprio due modi di vedere l'altro invece vuole sempre feste vuole sempre cose nuove c'è una differente anche questo fa parte un po' però secondo voi qua è la maschera della persona perché dentro c'è un'interiorità che probabilmente voi avete captato allora la risposta alla prima domanda senza bisogno di andare a sollevare arcani minori credo di poterla dare tranquillamente la temperanza uno dei simboli della temperanza è la pazienza appunto quindi il tempo di attendere non troppo neanche perché nell'immediato futuro le tre carte sono un gioco che da un immediato futuro dicevo non abbiamo bisogno di andare ad approfondire la situazione perché qua è amore corrisposto la temperanza è proprio l'amore corrisposto o comunque il bene il volersi bene che trascende limiti di possibili diverse visioni del mondo di possibili approcci di visione al mondo la temperanza è anche il rivelarsi per ciò che si è quindi comunque questa maschera qua andrà a cadere sia che questi siate voi ma ne dubito sia che questa sia la persona verso la quale voi state andando a pensare diciamo che la temperanza è anche un'operazione alchemica quindi qua c'è sicuramente un costruito qualcosa con la persona se non addirittura un godersi una bella e sana sessualità perché comunque ricordiamo anche il simbolismo della carta dove va a travasare il liquido da un vaso all'altro rimanda molto sia un discorso di alchimia sia un discorso anche di sessualità ma la temperanza principalmente appunto come dicevo parla di serenità di pazienza di attesa quindi la cosa non è nell'immediato ma sicuramente è brevissimo e di amore corrisposto qua non c'è molto da aggiungere la prima versione molto lineare andiamo a fare un ancient feminine wisdom è la persona giusta per chi ha scelto la versione A e vediamo che cosa ci dicono anche alla luce della finalmente conclusa traduzione per chi ha scelto la versione A la persona alla quale sta pensando è la persona giusta Calipso gli amanti l'amore beh direi che che sì qua ci avevo visto giusto parla proprio di amore Calipso è proprio la nifa dell'amore non ci sarebbe nemmeno bisogno di consultare la famosa nuova traduzione perché ormai credo che abbia confermato un po' un po' tutto tutta la lettura che andava a fare comunque ecco diciamo che Calipso appunto qua mi dice che è fascinazione magia magia intesa come come connessione infatti lui dice il luogo in cui siamo sospesi viviamo non a casa amando non relazionandosi in attesa che le nostre vite ci raggiungono quindi qua è proprio secondo me il discorso di fiamma gemella è una carta appunto che rimanda molto al concetto di amore che viene da lontano quindi comunque alla fine un amore che abbiamo ce lo siamo sudati dai con attesa con pazienza con costanza anche quindi niente qua c'è veramente un trionfo dovete solo dare tempo a tempo molto lineare non c'è da aggiungere altro direi che chi ha scelto la versione A può ritenersi molto 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 fortunato deve solo avere la pazienza e non cadere lui o lei stessa nelle spire del diavolo cioè nell'impazienza nel troppo appunto nell'ossessione di desiderare a tutti i costi un rapporto bene io chiudo la versione A e passo alla versione B di nuovo il mago l'imperatrice allora questa è una lettura molto interessante che meriterà sicuramente un approfondimento con gli arcani minori dunque vi vado a dire innanzitutto che la persona è la persona giusta e su questo non c'è assolutamente niente da mettere in discussione qua è ancora più lineare della precedente quindi chi ha scelto la versione A può ritenersi contento chi ha scelto la versione B ha fatto un terno all'otto dunque scusate questa è una persona nuova una persona nuova che è entrata nella vostra vita di recente una persona probabilmente anche giovane o comunque di spirito giovanile una persona molto energica una persona che a sua volta ha fatto un cammino di formazione di preparazione che è rinata da un qualche trauma anche lei è risolta dalle acque dell'inconscio anche lei ha una rinnovata energia simboleggiata da questo serpente che l'avvolge e che sale anche lei come dicevo prima è la sofia agnostica ovvero è la vostra anima mundi l'anima che vi riconnette col mondo quindi a livello microcosmico potete vedere questa persona come un grande beneficio per voi nonostante anche qui torni l'implicazione del mago come prestigiatore quindi come colui o colei se stiamo parlando di una persona di una donna colui o colei che può allo stesso tempo usare il suo potere per ammaliarci per sedurci ma può anche usare il suo potere per ingannarci per truffarci per fare trucchi di prestigitazione quindi comunque illusionismo quindi qui noi abbiamo un po' paura di questa cosa qua fate conto che la lettura si rivolge verso la persona esterna la situazione esterna che voi andate pensando io credo che anche qua si parli molto di amore perché c'è una carta di profonda fecondità che all'imperatrice che andremo analizzare dopo però anche in questo caso possano esserci dei piccoli accenni al vostro sentire interiore come appunto la carta del mago ci va a dire quindi appunto questa persona è adatta a me mi sta illudendo è un po' la situazione che oppure mi illudo io semplicemente che le attenzioni e le cortesie di questa persona siano semplicemente una forma di cortesia e nient'altro diciamo che ci sta un po' tutto qua perché comunque qua la situazione è certamente all'inizio questa non è una cosa che arriva dal passato non è una cosa che arriva dai precedenti se dovesse per ipotesi arrivare dal passato ma qui bisogna vedere un attimino se ci credete o meno sarebbe comunque un passato che trascende quindi il tempo quindi probabilmente sarebbe un passato che affonda le radici in vite precedenti appunto comunque energie affini ci sarebbe da aprire un capitolo che non finisce più quindi me lo risparmio però comunque ecco qua ci sono proprio due energie molto affini diciamo che la vostra interazione in questo momento potrebbe essere benissimo sintetizzata da questa carta credo che anche voi stiate sorgendo un attimino dalle acque dell'inconscio dove vi siete tuffati per recuperare la vostra dimensione e credo anche che il gesto iniziatico fatto da questa persona che lascia che il serpente si avvolga a lei possa rappresentare anche il momento di ora nel quale vi state un attimino studiando da entrambe le parti con sicuramente la giusta dose di stacco per non far capire all'altro o all'altra che avete un interesse ad approfondire la conoscenza non certamente a fare una relazione ma sicuramente a approfondire una conoscenza scusate e però siate anche appunto come questa figura è vero che c'è l'energia che risale eccetera eccetera l'allegoria è corretta però è anche vero che se io faccio un gesto iniziatico diciamo faccio capire un po' qual è questo è un'accezione molto più ampia per carità non c'è nessuna scuola che lo dice però facendo un gesto iniziatico faccio un gesto legato quindi a delle discipline interiori quindi faccio un attimino comunico attraverso i gesti la mia interiorità diciamo che mi spoglio di sovrastrutture mi spoglio di maschere mi spoglio e mi mostro nella mia vera essenza e lascio che tu l'altro serpente mi avvolga nelle tue spire mi morderai o mi porterai energia io provo è questa la vostra situazione attuale vi state studiando da entrambe le parti uno vi sta avvolgendo ma potrebbe mordervi l'altro vi mostra se stesso nella sua nudità e potrebbe rivelarsi freddo e brutale come le acque da cui sorge tuttavia anche qua c'è il risvolto ci sono due elementi importanti che tornano qua il serpente e la nudità il mettersi a nudo il darsi completamente il mostrarsi per ciò che si è senza timore viene benissimo espresso dalla carta carta che mostra anche una probabile scansione temporale come già ho detto tante volte che può essere addirittura una lunazione quindi questa è una cosa che andrà veloce ma può essere anche tre lunazioni ad ogni modo è una cosa che nel tempo è vicinissima il serpente il nostro serpentello che è l'energia che al momento vi sta mettendo paura e vi sta attraendo al tempo stesso non solo ve lo lasciate alle spalle ma lo nutrite ne fate una potenza e trasmutate questa energia serpentina in un qualcosa in una nuova vita vita che andate a nutrire con ciò che c'è sicuramente di più sacro legato al corpo il latte il sangue questo è un trionfo un trionfo di armonia di complementarità di integrazione di qualsiasi termine vi venga a mente qua c'è una coppia probabilmente veramente animica io sapete che sono molto lontano la definizione fiamme gemelle anime gemelle non mi piace tanto andare chiedo scusa oggi è un po' più freddino forse avrei dovuto mettere una maglia un po' più però va bene dicevo io non sono molto per la definizione anima gemella fiamma gemella eccetera eccetera in questo caso mi sento di dirlo qua c'è proprio un qualcuno che è animicamente legato a voi è il vostro specchio perché comunque sia anche qua voi mi tornate come coppia a livello animico che dà qualcosa che crea qualcosa scusate in brevissimo tempo è qualcosa di grande anche perché la vita è grande questo è un fanciullo ma è il figlio dell'imperatrice è un fanciullo divino quindi è un qualcosa di trascendente addirittura ma può essere anche semplicemente create qualcosa a livello lavorativo insieme o che seguite un progetto ma sicuramente corale di ampio respiro una cosa che vi renderà molta abbondanza qua anche la vostra unione darà molta abbondanza mi sono un attimo perso dicevo io non parlo molto di fiammi gemelle però qua c'è veramente la totale complementarità certo è che tutto questo ha un prezzo ha un attimino un prezzo sulla vostra appunto natura e dovrete un attimino sicuramente fare dei passi incontro a questa persona perché questo serpente che sta studiando qua poi in realtà dopo che l'avete nutrito deve trasmutare quindi sicuramente qualcosa in voi in questa persona deve cambiare delle abitudini dei modi di essere dei modi di comportarsi però si tratta di cose che potete settare potete fare potete farcela e sicuramente ce la fate perché l'associazione imperatrice mago è sicuramente un'associazione che porta poi 3, 1, 4 quindi porta la solidità dell'imperatore già questo basterebbe però qua si parla veramente di diffusione animica però sono cose che farete quasi con naturalezza perché comunque in realtà continuerete a nutrire quest'idea di fondo che vi ha uniti forse sarà questa la vostra forza voi non sarete la persona a cui state pensando non è una persona con cui proverete noia non è una persona che vi darà quella quale dopo un po' di tempo il rapporto magari potrebbe farsi stanco potrebbe magari come si dice cadere nel classico ma chi me lo ha fatto fare qua c'è qui c'è una fusione piena una fusione molto cogitativa perché il 4 è anche un numero legato a mercurio quindi sicuramente qua c'è proprio un'interazione mentale veramente completa dove vi porta allora io qua mi divertirei un po' perché qui direi non è che dove vi porta qua direi dove vi riporta dunque innanzitutto vi fa correre nella neve quindi vi fa correre sicuramente in un territorio completamente neutro nuovo per voi ma anche così come un territorio che può essere ricco di insidie perché comunque poi le insidie sono quelle dentro di noi quelle che le nostre paure magari a brutta al volta anche irrazionali talvolta razionalissime per carità però essendo un territorio neutro possiamo adoperare queste paure come bastone esperienziale e quindi il territorio neutro lo forgiamo lo formiamo noi e decidiamo noi quali ostacoli ci sono e quali invece vie sono aperte vi porta a correre verso l'arba verso la rinascita ma non so forse non riesco a rendere bene quello che volevo dire il matto è energia lo stato grezzo ecco perché volevo tirare un paio di arcani minori per vedere perché una lettura col matto che si chiude col matto da spalanca ogni tipo di possibilità può succedere di tutto questa fusione anemica può portarvi veramente a toccare livelli inimmaginabili e può succedere di tutto perché il matto è energia lo stato grezzo e quindi è completa ci sono tutte le possibilità per evolvere in qualsiasi campo qua ci vedo molto una relazione anche qui come nella prima se si trattasse di un discorso lavorativo beh offritemi almeno una cena quando sarete miliardari allora vediamo un po' due o tre arcani minori un paio di arcani minori a chiarimento perché è uscita la carta del matto chi ha scelto la versione B perché è uscita la carta del matto a chi ha scelto la versione B perché è uscita la carta del matto a chi ha scelto la versione B taglio il mazzo e prendo le prime due ok allora direi che è molto chiara che cos'è questo è spade qua abbiamo un re di spade quindi anche qui abbiamo una carta innanzitutto di velocità perché comunque le spade sono sempre carte molto veloci ma abbiamo una carta di potere il re di spade è proprio una carta di di potere potere nella sua massima accezione e qua la carta è molto allegorica si tirerebbe avanti per chissà quanto tempo questa 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 analisi però sicuramente sintetizzando si può dire che è una carta di un potere giusto un potere che viene da 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 logica viene da razionalità viene da amore per tutto ciò che è giusto amore per la giustizia per il benessere per costruire per lo star bene qua c'è proprio un ripensare un voglio vedere anche la carta nel secret femminile cosa mi dice comunque stavo dicendo qua c'è proprio una una storia che va a decostruire sovrastrutture che non sono più giuste quindi qua c'è veramente un taglio netto con ciò che o voi o questa persona eravate nel passato e c'è un completo ricostruire lo stesso sangue che vediamo qua è come se fosse il sangue che sta fecondando questo albero tutto viene fatto secondo una legge ben precisa che è quella del cosmo qua c'è una che sono il tamburo una sacerdotessa che sono il tamburo quindi più cosmico del ritmo del tamburo è difficile vediamo un po' bastoni 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 spade non mi ricordo più beh caspita è la dea civele attis morirà e virato sotto un melograno frutto di simbolo di morte e di nascita il potere della mente dà chiarezza nel comando l'energia si focalizza nell'atto morte e rinascita come dicevo prima sacrificherete una parte di voi che non vi serve più e andrete per il melograno poi con tutta la simbologia appunto che ha e poi mi esce il matto il matto esce qua scusate il set di bastoni anche questa carta parla molto chiaramente di uccisione dei nostri demoni quindi di tutto ciò che fino ad ora ci ha affermato ci ha fatto male ci ha limitato anche limitato sia nel metro di valutazione e di riflesso anche nella vita il set di bastoni è una carta di lotta di combattimento di competizione ma anche di capacità di rigenerarci rigenerarsi accidenti a me e imbrogliarmi alle parole scusate quindi è una carta di rigenerazione qua c'è veramente una rigenerazione e una cesura totale con ciò che vi ha limitati fino ad ora qua c'è una rinascita completa a tutto tondo una rinascita meravigliosa anche in questo caso voglio andare a vedere la carta che cosa mi dice perché sul il secret femminile poi ha tutta una sua lettura particolare io uso 700 mazzi impararli tutti a mente è dura quindi ogni tanto lo faccio di andare beh la dea signa Anath vendica la morte di suo marito ballo uccidendo il demone il set la carta di reazione ai dolori della vita la combattività che ci aiuta ad affrontare gli ostacoli direi che questa per ora si candida a diventare la miglior lettura delle quattro chi ha scelto la versione B va incontro ad un trionfo vi faccio il secret femminile e poi passiamo alla C è la persona è la persona giusta per chi ha scelto la versione B la persona a cui sta pensando chi ha scelto la versione B è la persona giusta l'ancien femminile ci dice questa voglio accipicchia carpo i frutti dell'estate summer fruit in realtà estivi a vedere la carta non proprio e questo potrebbe non solo piacerci ma anche potrebbe essere auspicato scusatemi le stagioni per gli antichi sono la ruota della vita che girano in misura nel tempo carpo incarna l'abbondanza l'abbondanza dei frutti che arrivano alla fine della stagione estiva e infatti per questo parlavo di frutti estivi per modo di dire perché qua c'è un paesaggio autunnale di dietro è una divinità che tiene in mano come mostra la carta eccola qua un ramo con dei frutti quindi tiene in mano il frutto del suo lavoro ma anche il frutto dell'abbondanza che la fertilità della terra che i semi ci hanno dato è un simbolo di un rinnovato inizio e addirittura ci dice che questo perché qua probabilmente si sta chiudendo un ciclo questo ciclo che si sta aprendo è degno frutto degna maturazione del ciclo precedente che già ne aveva fatto intuire il potenziale questo per dire che noi nel ciclo precedente abbiamo piantato dei semi abbiamo capito che possono maturare maturare le ricono in cina e abbiamo anche capito come farli maturare e addirittura abbiamo compreso il potenziale dei frutti bene l'universo ci sta dicendo ok hai studiato bene hai capito bene la lezione perfetto è tutto qua per te quindi la seconda versione direi che la versione B è cipicchia complimenti complimenti veramente a chi ha scelto la B passiamo dunque alla versione C allora la forza no la giustizia in questo mazzo questo mazzo segue Wirt scusatemi Wirt è famoso perché la sua ricostruzione del mazzo dei tarocchi molto affascinante anche inverte la posizione di forza e giustizia il carro la ruota dunque qua in realtà ci troviamo forse di fronte ad una persona che non sappiamo quanto possa essere giusta però in realtà ha sicuramente un messaggio per voi probabilmente qua a differenza delle prime due stesse si parla di una situazione di discepolato quindi può essere anche per modo di dire una situazione di lavoro ma può essere anche una situazione di amicizia nella quale si vede in una persona un modello di virtù un modello di equilibrio così come è la carta della giustizia può essere anche una persona dal cui senso di giustizia speriamo di ricevere un aiuto così come può essere addirittura una persona alla quale intendiamo legarci sì per una cosa sentimentale ma con la quale siamo uniti anche da altre implicazioni che possono essere progetti possono essere anche lavori può essere tante cose possono essere tante cose può essere anche un viaggio che stiamo compiendo insieme quindi magari può essere lo stesso corso universitario se siamo studenti può essere lo stesso lo stesso cammino artistico se siamo persone più più adulte però magari vogliamo che ne so seguire un corso di pittura un corso di scultura un corso di cartomanzia e questa è sicuramente una persona che sta seguendo con noi un corso o un corso scusatemi una qualche formazione se non addirittura torno a dire una persona che alla quale siamo legati da un'idea di accordo come può essere qui a una sorta di matrimonio sia esso fisico ma anche spirituale ci sono delle persone con cui leghiamo in un senso molto simile al matrimonio si può parlare appunto di unione animica unione spirituale ma che non ha niente a che fare con l'unione dell'amore come la intendiamo convenzionalmente nel nostro mondo anche qui ci sarebbe da spalancare un abisso di considerazioni che è meglio non fare se no stanotte ci siamo sempre qua una persona che speriamo che porti appunto armonia nella nostra vita che cui consigli la cui guida è per noi un faro perché potrebbe essere la persona giusta ma potrebbe anche non esserlo perché vi porta al carro questa persona sicuramente vi darà degli strumenti nuovi per valutare il nuovo cammino il nuovo corso delle cose per valutare la vostra evoluzione per valutare ciò che siete il carro ha molte implicazioni soprattutto legato appunto al discorso della giustizia tanto per incominciare qui ci si potrebbe vedere anche delle precise connotazioni zodiacali la giustizia per esempio può rimandare alla bilancia ma può rimandare anche alla vergine in un certo senso il carro è diciamo uno dei dei cardini su cui si leva un po' tutta la speculazione intorno alla mappatura delle costellazioni proprio il carro o la costellazione del carro anche qui ripeto ci avrebbe da spalancare un tombino quindi me lo evito quindi qua possiamo vedere addirittura una unione quasi un arrivo di una persona predestinata karmicamente e questo ce lo dice la ruota che torna anche nel concetto appunto legato al discorso di astro sappiate che così come gli astri questo rapporto è sicuramente ciclico sicuramente è una persona che probabilmente entra e esce dalla vostra vita però anche o se l'avete conosciuta da poco avete la sensazione che che energie simili entronescono periodicamente dalla vostra vita secondo me il compito di questa persona è quello di insegnarvi che non dovete dare discepolato a nessuno io credo che qui vi insegni proprio nella seconda eccezione appunto del carro ad essere voi i cocchieri e non ad attendere che qualcuno guidi il carro per voi e qui vi sta un po' dicendo questo sono qui per portarti l'equilibrio necessario per darti la guida necessaria affinché tu non abbia più bisogno di guida sono qui a insegnarti che tu puoi diventare la guida e che tu puoi attaccare al carro dell'esperienza questi serpenti rosso e nero anche qui altro tombino da stappare per parlarne tre ore il colore del sangue il colore della terra tutto ciò che concerne le dottrine appunto alchemiche ma anche il colore dei colori primari quindi comunque ce ne sarebbe da dire comunque i colori che fanno riferimento molto alla natura dell'uomo e alla sua interiorità sono qui per insegnarti a domare tutto questo e a trasformarlo in potenziale perché ti sia traino per una nuova vita dopodiché la ruota farà il suo corso questo è un po' quello che vi stanno dicendo questa persona è transitoria nella vostra vita non è destinata a rimanere per ora ma è destinata a lasciarvi un insegnamento un insegnamento che vi farà maturare certo è che voi potrete anche vedere in questa persona una persona che ha sicuramente le sue mancanze ma è probabile che siano anche quelle mancanze ad insegnarvi qualcosa perché comunque il carro torno a dire è una carta di un guerriero di un qualcuno che ha le redini della sua vita quindi è un qualcuno che è anche capace di giudicare l'atto di giudicare ritorna molto anche nella carta della giustizia che è una carta che ci fa capire che abbiamo bisogno di trarre una lezione da tutto questo lezione che concerne proprio il nostro essere equilibrati e il nostro saper trasformare la dualità di un giudizio altrui nella dualità dei nostri due serpenti che tireranno il nostro carro carro col quale col poi andremo ad aprire un nuovo ciclo probabilmente questa situazione richiederà molto sforzo sia da parte vostra sia da parte dell'altra persona perché questa persona ripeto viene per arricchirvi che non è mai un compito facile non c'è mai un discepolo un maestro uno che sta bene l'altro che sta male sempre la cosa è sempre in ampia percentuale l'uno verso l'altro ci vedo molto una situazione formativa quindi potrei dire una situazione lavorativa è qua o un progetto assieme però ricordo anche appunto che la giustizia fa anche matrimonio quindi qua potrebbe essere addirittura una relazione con la quale si pensa di andare di convolare a nozze ma che purtroppo mi vuole dirlo col tempo capiremo che e quindi magari una convivenza può essere che col tempo poi va a chiudersi però che vi insegna qualcosa queste sono carte che hanno tempi molto lunghi è pur vero che il carro è una carta abbastanza veloce che la ruota è addirittura repentina ma sono moderate dalla giustizia quindi da una carta che ha i suoi tempi e nessuno può impedirgli di averceli perché lei ha la carta della giustizia l'archetipo della giustizia i tempi li decide lei potrebbe essere forse una convivenza veramente qua un progetto di convivenza o addirittura ritorno a dire un progetto di lavoro però sicuramente qua c'è formazione non è una versione che parla di persona giusta ma è una versione che parla di persona che vi è maestra per il prossimo step della vita anche il femminile wisdom per chi ha scelto la versione C è la persona giusta il fato le moire che è uguale alla carta della ruota che ci dice che probabilmente l'insegnamento di questa persona è l'insegnamento che tu devi devi assimilare per arrivare al prossimo step le moire dicono che siamo chiamati ad accettare e seguire il corso predestinato non dobbiamo non dobbiamo forzare il destino non dobbiamo cercare di controllare il flusso degli eventi ciò che è stato scritto dall'universo è destinato a compiersi noi probabilmente lo sentiamo perché poi ruota giustizia e carro sono carte fortemente legate sia alla ricerca dell'equilibrio sia alla ciclicità sia al formarsi dell'individuo al formarsi del carattere non dobbiamo fare passi prima di avere le basi e le basi ce le darà questa esperienza questa esperienza ci maturerà ci crescerà ci guiderà perché il destino ha scelto ha scelto il brutto il destino ha offerto la possibilità di diventare noi stessi i fautori del destino però per farlo dobbiamo capire come far girare la ruota e l'unico modo è passare da questa esperienza se dovessi indorare un po' la pillola cosa che a molti non piace ma che a volte può risultare utile la versione A e la versione B avevano scelto delle strade che ormai erano il frutto di ciò che avevano piantato qua invece stiamo piantando certamente questo presuppone un grande lavoro però presuppone anche una grande offerta perché l'universo ti sta dicendo non ti do perché tu perda ma ti insegno come fare perché tu abbia sempre quindi stringete i denti chiedete duro perché da questa situazione probabilmente ne uscirete con una rinnovata visione del mondo ma anche in grado questo mondo di muoverlo secondo le vostre esigenze che saranno esse stesse cambiate e saranno più allineate con ciò che è il cosmo e con ciò che è un'energia superiore che porta anche abbondanza anche abbondanza perché comunque sono tre carte di abbondanza o di beneficio comunque non solo a voi ma all'intero circostante sono tre carte molto legate alla sfida siete chiamati a sfidare e a costruire e ce la fate ce la fate io ringrazio chi ha scelto la versione C vi faccio un grande augurio e passo alla versione D l'appeso l'eremita la torre oddio mio qua dunque ni perché qua c'è una situazione di fermo voi partite con una carta che è la carta dell'appeso la carta dell'appeso ha molti significati anche significati molto 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 profondi voi siete appesi siete in una situazione di fermo ma sentite anche come la carta mostra bene di non avere molto tempo perché comunque sentite anche che ciò che vi sta bloccando ciò che vi sta turbando è come una pesantissima spada di Damocle ed è lì pronta a trascinarvi voi avete la sensazione di essere fermi di non avere le mani legate di non riuscire a a liberarvi da una situazione dove magari in alcuni casi non in tutti potrebbe esserci un discorso di me la sono cercata me la sono voluta sono in una situazione che io stesso o io stessa se siete donne ho contribuito a costruire e in questa situazione adesso io non so come fare a riprendere a riprendere in mano le redini della mia vita avrei un'idea di sole nascente è bella molto 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 bella l'interpretazione di Jodorowsky che vede nelle gambe dell'appeso una svastica simbolo di sole nascente però questo sole è ingabbiato in una ragnatela potrebbe anche essere che voi stiate pensando ad una persona che nel passato avete tradito perché l'appeso è la carta che riguarda proprio il tradimento in alcuni mazzi viene chiamato appunto il traditore i traditori venivano appesi in questo modo o comunque in modo simile e l'iconografia dell'appeso deve molto ai dipinti ce n'era uno famosissimo a Firenze oggi non esiste più dove venivano rappresentati appunto gli appesi come traditori del popolo dei medici e venivano rappresentati così quindi questo potrebbe essere anche una persona che voi in passato avete rinnegato qui potrebbe essere un qualcuno che voi avete forse allontanato di vostra volontà e vi siete messi in una situazione che state rimpiangendo i lati positivi dell'appeso sono legati alla realizzazione interiore iniziazione elevazione spirituale espiazione capacità di sacrificare il proprio interesse per un bene superiore come applicarli a questa lettura questa è una lezione che voi dovevate imparare il classico esempio potrebbe essere sono un uomo o una donna bellissimo ho tutto il mondo ai miei piedi arriva quello quella che non mi guarda di striscio e io tutte le mie certezze crollano ma io non ero il dio non piacevo a tutti non ero quello che faceva che tutti fossero i miei piedi che dipendessero tutti come mai questo qui o questa qui che cosa lo spinge a rifiutarmi che cosa mi manca qua vi siete pesantemente messi anche in discussion cioè io non pretendo che tutte le varianti che sto dando siano una sola persona se no c'è altro che psichiatra c'è bisogno di un intero ospedale psichiatrico a servizio di uno sono i vari casi uno potrebbe essere anche questo è sicuramente una situazione che voi avete contribuito a creare e infatti state un po' vivendo nel rimpianto dell'eremita la vostra unica luce interiore è rappresentata dal ricordo di questa persona e il ricordo di questa persona che vi sta guidando nella foresta che rappresenta benissimo l'inconscio nel quale state andando a cercare le ragioni per cui vi sentite così in trappola l'eremita è una carta anche quella di profonda saggezza maturata a seguito dell'introspezione e dell'espiazione che l'appeso ci invita a portare avanti diciamo che qua non è molto 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 lunga è breve la cosa scusate anche se fosse probabilmente sarà così poi vi spiegherò il perché di così anche se fosse che voi riusciate ad avvicinare questa persona in seguito a questo processo di interazione di introspezioni e in seguito anche a tutto ciò che c'è stato prima entrambi siete così cambiati che probabilmente ci sarà un completo allontanarsi forse definitivo in alcuni casi in altri no però voi dovete prendere il lato buono della cosa il lato buono della cosa è che questo vi servirà a capire che per quanto voi siate guerriari siate comunque sottoposti a cadere voi stessi preda della vostra rete o per quanto voi siate saggi così come l'eremita in questo caso la vostra saggezza non può appoggiarsi all'esperienza di qualcun altro non potete pretendere che l'energia di qualcun altro vengono in soccorso alle vostre se le vostre sono carenti dovete rafforzarle e non potete appoggiarvi a vampirizzare le energie altrui perché probabilmente in modo inconscio avete fatto anche questo vi siete appoggiati ad energie altrui in un certo qual senso anche vampirizzandole ripeto non con malizia perché io comunque non mi piace puntare il dito non mi piace dire tu hai vampirizzato magari l'hai fatto inconsciamente solo perché la tua evoluzione del momento ti ha spinto a fare questo tu credevi magari che fosse un atto di amore di amicizia ma non lo era era una tua visione completamente distorta di cos'è amore di cos'è amicizia e questo perché devi magari crescere crescerai crescerai perché la stesura si chiude con la torre la torre è una carta di profonda ristrutturazione del sé anche distruzione di strutture sovrastrutture questa ragnatela che sta imprigionando l'appeso è una struttura sono le vostre strutture mentali così come gli alberi che sono attorno sono vostre strutture mentali questo labirinto che lei ha davanti deve essere spazzato via questa persona a cui state pensando probabilmente non tornerà o se tornerà tornerà per darvi il ben servito definitivo ma sappiate che sarà tutto a beneficio di una crescita interiore non immune da dolore non immune da profonda crisi ma che comunque vi farà bene le remita una carta anche di pazienza voi state attendendo dei segni da questa persona se non vi muovete voi non arriveranno potremmo dare una scansione temporale anche sul fatto dell'associazione 16 con luna quattro settimane quattro volte quattro lune quattro mesi ma la cosa che che è importante è che se voi non imparate che questa persona non è cattiva con voi ma è semplicemente il comportamento che questa persona avrà con voi non è dettato da cattiveria ma è semplicemente dettato dalle strutture dai mille cavilli dai paletti dai muri che voi avete inalzato messo il copione si ripresenterà la volta successiva le carte vi invitano a fare una profonda 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 introspezione molto più profonda di quella che magari voi potete aver fatto sicuramente con tutta la motivazione possibile ma magari perdonandovi un po' troppo e vi invitano a guardare appunto il labirinto di tutti questi ostacoli che voi stessi ponete al vostro cammino di tutte queste reti che voi stessi tessete di tutti questi alberi che voi stessi piantate per confondere voi e il prossimo e niente qua c'è poco da dire è la persona giusta per farvi crescere quindi per darvi una lezione di vita se sperate che sia la persona giusta per intessere un rapporto durevole o per portare avanti un progetto durevole o per al momento vediamo vediamo cosa dice lancer femminile questo è la persona giusta perché ha scelto la versione di fertilità alla persona giusta per darvi una lezione si 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 diciamo diciamo che io ho fatto questa traduzione dell'ancien feminine wisdom quindi lo sto un attimino consultando vedi dice inerente la psiche umana è la comprensione del processo di rinnovamento la dea ci ricorda che potenti forze vengono rilasciate dopo un periodo di ritiro e di fermo di meditazione di introspezione quindi voi potete rinascere ma dovete scegliere di cavalcare questo leone cipele associata alla terra voi siete un seme avete un seme ma se il seme non muore la pianta non nasce è il leone che dovete cavalcare sulle vostre paure la vostra interiorità la vostra anche fierezza la vostra indole forse troppo dura battagliera chiusa in sé vi sentite come voi sentite voi il leone e rugite contro chiunque osi ma questo non vi porterà lontano c'è un tempo per essere leone e un tempo per non esserlo e bisogna sempre sapere quando perché altrimenti si rimane ingabbiati nelle nostre strutture mentali questo è quello che dicono io ringrazio chi ha scelto la versione D e con questo chiudo la lettura io vi ringrazio per avermi seguito faccio i complimenti a chi ha scelto la A la B un grande augurio a chi ha scelto la C e un fortissimo augurio per chi ha scelto la D vi invito se il video vi è piaciuto a mettere il like ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento per il video di Sawin che arriverà e per il prossimo interattivo buona giornata a tutti a presto ciao ciao